la benedetta questione del latino con cui ci si abbrutisce da qualche tempo mi fa ricordare un episodio della mia giovinezza stavo compiando gli studi in un collegio situato in una grande città della francia centrale istituto robinò celebre in tutta la provincia per l'insegnamento accurato del latino che vi si impartiva da dieci anni l'istituto stesso batteva in tutti i concorsi il liceo imperiale della città e quanti altri collegi vi erano nelle sottoprefetture quei continui suoi successi erano dovuti si diceva a un certo piquedain semplice prefetto di camerata o meglio papà piquedain come veniva chiamato era uno di quei semi vecchi tutti grigi la cui età non è possibile decifrare ma la storia dei quali si indovina alla prima occhiata era entrato a vent'anni come prefetto in un istituto qualunque per poter spingere i propri studi fino alla licenza liceale da prima poi alla laurea si era trovata così tanto preso in quella tetra esistenza che era rimasto per sempre prefetto di camerata non aveva però abbandonato il suo amore per il latino che lo torturava come una passione morbosa continuava a leggere poeti prosatori storici a interpretarli ad approfondirli a commentarli con una perseveranza che rasentava la mania un giorno gli venne l'idea di obbligare tutti i suoi scolari a risponderli solo in latino e persistette in tale proposito fino al momento in cui furono in grado di sostenere con lui tutta una conversazione come se quell'idioma fosse stato la loro lingua materna li ascoltava come un direttore d'orchestra ascolta i suoi musicisti e ad ogni momento col regolo batteva sul tavolo esclamando le frere, le frere, state facendo un solecismo non ve la ricordate più la regola? plantel, la forma della vostra frase è francese e niente affatto latina bisogna comprendere lo spirito di una lingua ecco come va detto ora successe che gli scolari dell'istituto robinò vinsero a fine anno tutti i premi di tema, versione e orazione latini e perciò l'anno seguente il direttore proprietario un ometto scaltro come una scimmia alla quale somigliava anche per il fisico grottesco e raggrinzito fece stampare sui programmi, sulle affissioni e dipingere sulla porta del convitto approfondimento di studi latini cinque primi premi riportati nelle cinque classi del liceo due premi d'onore al concorso generale per tutti i licei e collegi di Francia per dieci anni l'istituto conseguì il medesimo trionfo e mio padre, allettato da tali successi, si mise come esterno da robinò e chiamavano robinetto o robinettino e incaricò Picadain di darmi lezioni speciali al prezzo di cinque franchi ciascuna delle quali due erano per il maestrucolo e tre per il proprietario dell'istituto avevo allora diciotto anni e studiavo filosofia le ripetizioni avevano luogo in una stanzetta che guardava sulla strada invece di parlarmi in latino come faceva a scuola mi narrava le sue pene in francese senza parenti, senza amici il povero diavolo prese a volermi bene e non dò il mio cuore con la piena dei suoi crucci erano 10 o 12 anni che non parlava con qualcuno da solo a solo sono come una querza in un deserto mi diceva sicut quercus in solitudine gli altri prefetti lo sfottevano non conosceva nessuno in città perché non aveva tempo e libertà sufficiente per stringere relazioni neanche le notti, mio caro ed è questa la cosa che mi riesce più intollerabile il mio ideale sarebbe di avere una cameretta con i suoi bravi mobili, libri, cosucce che mi appartenessero e che gli altri non potessero toccare non ho nulla invece che sia mio tranne i pantaloni e l'abito che indosso nulla neppure il materasso e il guanciale su cui dormo non ho quattro muri fra i quali chiudermi all'infuori di quando vengo qui per la lezione ve lo figurate voi un uomo che trascorre tutta la vita senza avere mai il diritto senza mai trovare il tempo di starsene solo dove non importa per pensare, riflettere, lavorare, sognare ah, una chiave la chiave di un uscio che possa essere chiuso ecco la felicità l'unica felicità qui durante il giorno la lezione a tutti i ragazzi che non stanno mai quieti e durante la notte il dormitorio insieme agli stessi berichini che russano e dormo in un letto pubblico all'estremità di due letti simili su cui giacciono i briconcelli che devo sorvegliare non posso essere solo un momento mai, mai se esco trovo la strada in gombra di gente e se stanco di camminare entro in un caffè lo trovo pieno di fumatori e giocatori di biliardo insomma una galera mi chiesi perché non vi siete dato a qualche altro mestiere signor Piccadà come? giovanotto esclamò ma io non sono né calzolaio né falegname né cappellaio né parrucchiere né fornaio so il latino e null'altro e non ho una laurea che mi permetta di venderlo a caro prezzo se fossi dottore ve l'assicuro che vorrei se fossi dottore ve l'assicuro che vorrei cento franchi per ciò che ora do per cinque e sarebbe di qualità meno buona certamente perché il titolo mi basterebbe a sostenere la mia reputazione talvolta mi diceva le sole ore del mio riposo sono quelle che passo insieme a voi ma non temete non ci rimetterete nulla a scuola mi rifarò del tempo perduto interrogandovi due volte più degli altri una volta fattomi coraggio gli offrì una sigaretta mi guardò dapprima con stupore poi guardò l'uscio se entrasse qualcuno vuol dire che fumeremo alla finestra ci andammo appoggiandoci coi gomiti al davanzale e nascondendo in fondo alla mano arrotondata come una di conchiglia e sottili rotoli di tabacco di fronte a noi c'è una bottega di stiratrici quattro donne in veste bianca che passavano e ripassavano sulla biancheria stesa davanti a loro il ferro caldo dal quale si staccava una nuvoletta di vapore a un tratto un'altra donna la quinta che portava infilato nel braccio un largo paniere che le incurvava la vita uscì per recarsi dai clienti a restituire loro camice fazzoletti lenzuoli si fermò all'uscio come si fosse già sentita stanca alzò quindi gli occhi sorrise vedendoci fumare ci mandò con la mano libera un giocoso bacio di operaia spensierata e se ne andò con passo lento strascicando le ciabatte era una ragazza di vent'anni piccola un po' magra pallida belloccia con un fare birichino con gli occhi ridenti con i capelli biondi e scarmigliati che mestiere per una donna mormorò commosso Picadain un vero mestiere da somaro e continuò soffermandosi sulla miseria del popolo aveva un cuore esaltato di democratico sentimentale e parlava delle fatiche degli operai con frasi alla Jean-Jacques Rousseau e con voce lacrimevole all'indomani mentre noi eravamo appoggiati alla medesima finestra la stessa operaia vedutici ci mandò un buongiorno scolari con una voce gioviale e beffarda facendoci dei gesti con le mani e gettai una sigaretta che lei si mise subito a fumare e subito le altre quattro stiratrici si precipitarono fuori con le mani tese per averne anch'esse così ogni giorno sempre più si strinsero rapporti amichevoli fra le lavoratrici del marzapiede e i perdigiorno del convitto il signor Piccadeng era comico davvero a vedersi aveva una gran paura di essere sorpreso per amore del posto che avrebbe potuto perdere e faceva timidi gesti e mosse ridicole un'intera mimica di attore amoroso che sta recitando alla quale le donne rispondevano con una mitraglia di baci e venne allora un'idea perfida un giorno entrando nella nostra camera dissi sottovoce al prefetto devo dirvi una cosa signor Piccadeng ho incontrato la piccola stiratrice quella del paniere e le ho parlato che vi ha detto mi chiese un po' turbato per il tono da me assunto mi ha detto eh sì mi ha detto che vi trova simpatico insomma credo credo che sia un po' innamorata di voi lo vedi in pallidire certo vuole canzonarmi riprese alla mia età non capitano queste cose perché no siete ancora un uomo piacente ma siccome lo sentivo troppo impressionato della mia astuzia non insistei ogni giorno non gli riferivo di aver incontrato la ragazza e di averle parlato sicché finì per credermi e per mandare all'operaia baci ardenti e sinceri ora avvenne che una mattina recandomi al collegio la incontrai davvero e avvicinandomi a lei senza alcuna esitazione come se la conoscessi da dieci anni le dissi buongiorno come state? benissimo grazie volete una sigaretta? oh in strada? la fumerete a casa? allora accetto di te non la sapete la novità? quale novità? quell'uomo anziano il mio professore papà Picadam? sì ne conoscete il nome? sicuro e così e così è innamorato di voi è una frottola niente affatto durante l'intera lezione non fa che parlarmi di voi scommetto che vi sposa cessò di ridere perché l'idea del matrimonio dispone alla serietà tutte le ragazze poi ripete in credula è una frottola vi giuro che è vero prese il paniere che aveva deposto per terra mentre si discorreva e se ne andò dicendo vedremo se saranno rose e fioriranno appena entrato nel collegio presi in disparte Picadam bisogna scriverle è pazza di voi lui scrisse una lunga lettera tenera e dolce piena di frasi e perifrasi di metafore e comparazioni di filosofia e galanteria universitaria vero capolavoro di grazia burlesca che mi incaricò di consegnare alla giovane la quale dopo averla letta con gravità ed emozione mormorò com'è scritta bene si vede che è istruito ma è vero che vuol sposarmi sicuro perbacco risposi con la faccia tosta è cotto di voi tanto da perderne la testa quando è così bisogna che mi inviti a pranzo domenica all'Ile de Fleur le promisi che sarebbe stata invitata riferì la cosa al maestro che ne fu straordinariamente commosso e aggiunsi vi ama ed essendo come credo una ragazza onesta non bisogna sedurla e poi abbandonarla anch'io sono un uomo onesto amico mio rispose con fermezza non avevo in mente lo confesso alcun progetto facevo una burla da scolaro e nulla più facevo una burla da scolaro e nulla più conscio dell'ingenuità del vecchio maestro della sua dabbenaggine e dello scarso acume mi divertivo alle sue spalle senza pensare alle conseguenze non avevo che diciotto anni ed ero considerato al liceo da lunga pezza come un matricolato burbone fu dunque deciso che lui ed io saremmo andati in carrozza fino alla chiede Vache dove avremmo trovato l'angelin e dove saremmo tutti e tre montati nella mia barca perché a quell'epoca praticavo il canottaggio per recarci poi all'Ile de Fleur dove si sarebbe pranzato avevo imposto la mia presenza per godere del trionfo e il vecchio accettando il mio piano dava la prova a palmare che aveva perso la testa dato che metteva a repentaglio con tanta leggerezza il suo impiego quando arrivammo alla chiede Vache dove il mio canotto se ne stava ormeggiato fin dal mattino scorsi nell'alta erba della riva un enorme ombrello rosso simile a un mostruoso papavero sotto il quale si aspettava la giovane estiratrice indossante l'abito della festa ne fui sorpreso era veramente carina sebbene palliduccia e graziosa anche se di modi un po' volgari il signor Picadent si levò il cappello inchinandosi e lei gli porse la mano si guardarono entrambi senza dir parola poi salirono nel battello mentre io prendevo i remi se ne stavano seduti l'uno presso l'altra sul sedile di poppa il tempo è bellissimo per una passeggiata in barca osservò Picadent e lei oh sì mormorò lasciandoci trascinare la mano dalla corrente sfiorando l'acqua con le dita che sollevavano un piccolo zampillo trasparente simile a una laminetta di vetro producendo un piccolo rumore un armonioso lieve gorgoglio lungo il canotto quando si fu nell'osteria la ragazza ritrovò la lingua e ordinò il pranzo una frittura di pesce un pollo e insalata poi ci condusse nell'isola che conosceva Menedito fu allegra birichina e anche un poco beffarda fino al formaggio non si parlò d'amore avevo fatto venire lo champagne perché il maestro era con la testa fra le nuvole e lei che anche lo era lo chiamava Picadent signorina chiese a un tratto Raul vi ha riferito i miei sentimenti non è vero? sì signore disse Ancelin fatta si seria come un giudice cosa rispondete? non si risponde mai a queste domande lui ansimava per l'emozione verrà però un giorno riprese in cui riuscirò a piacervi so via sciocco se siete simpaticissimo insomma credete che più tardi noi si possa la ragazza rimase per un istante dubbiosa quindi con la voce tremante intendete dire sposarci non è vero? perché in altro modo mai mettetevelo bene in mente sì quando è così siamo d'accordo signor Picadent in tal modo i due ubriachi si promisero a vicenda di sposarsi per colpa di un ragazzino io però non credevo fosse una cosa seria e forse neanche loro la ragazza a un tratto fece un'obiezione importantissima io non ho un becco di un quattrino disse ma io balbetto a lui poiché era completamente ubriaco ho cinquemila franchi messi da parte e lei allora con aria trionfante oh ma allora possiamo benissimo formarci una posizione una posizione quale in che modo domandò inquieto il prefetto al momento non so vedremo con cinquemila franchi qualche cosa si può fare non vorrete certo che venga ad abitare nel collegio il maestro che non si era spinto sin là con le sue previsioni balbetò perplesso una posizione non è cosa facile non so che il latino ancelin dal canto suo rifletteva passando in rassegna tutte le professioni da lei vagheggiate non potreste fare il medico non ne ho la laurea farmacista neppure ancelin mandò un grido di gioia aveva trovato compreremo una drogheria magnifica idea sì compreremo una drogheria non molto grande ben inteso perché bisogna fare il passo secondo la gamba no interruppe lui ribellandosi non posso fare il droghiere sono sono troppo conosciuto che diamine non mi intendo che di latino io ma dato che la ragazza gli aveva versato in bocca a forza un bicchiere colmo di champagne lui bevette ed acque tornammo in barca e sebbene la notte fosse scurissima pure vedi che si tenevano allacciati alla vita e si baciavano spesso e seguì una catastrofe spaventosa scoperta la nostra scappata Piccadè fu messo alla porta e mio padre sdegnato mi mandò a compiere gli studi liceali nel collegio Ribaudet da lì a sei settimane ottenuta la licenza me ne andai a Parigi a studiare legge e solo dopo due anni tornai nella mia città natale dove voltando per la via detta del serpente mi colpì l'occhio una bottega su cui si leggeva prodotti coloniali Piccadente e sotto per uso degli ignoranti drogheria quantum mutatus a billo esclamai il professore allora alzò la testa e lasciato in asso la cliente mi si precipitò incontro con le braccia stese ah giovane amico siete qua finalmente se sapeste che fortuna fu la nostra una bella donna tutta tonda lasciò immediatamente il banco e mi si gettò fra le braccia stentavo a riconoscerla tant'era ingrassata dunque va bene d'incanto proruppe Piccadente che si era rimesso a pensare quest'anno ho guadagnato 3000 franchi puliti e il latino eh mio caro il latino non dà il pane neanche a chi lo conosce a fondo che si era rimesso è rimesso che si era rimesso c'era che si era rimesso c'era di un